Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Metodo SQ3R. Oggi voglio farti vedere un esempio pratico, qualcosa che finora non abbiamo mai fatto. Ti ho spiegato come funziona questo metodo, abbiamo fatto qualche confronto con altri metodi similari, non proprio uguali, ma comunque abbastanza simili, e adesso ti voglio fare vedere in modo pratico come puoi applicare questo metodo. Se mi hai visto spiegare altri metodi, soprattutto altri esempi pratici di altri metodi, avrai notato che ci sono alcuni aspetti che si sovrappongono, come ovviamente la lettura, il fatto di integrare delle domande. Quello che vediamo oggi, il metodo SQ3R, non te lo spiego nel dettaglio, perché se vuoi vedere questo tipo di contenuto ho fatto un video dedicato, ti dico soltanto che in generale ti può servire. Sapere che la S, che è sostanzialmente l'inizio dell'acronimo, che crea il nome del metodo, sta per survey, quindi esaminare il materiale, ed è la prima cosa che andiamo a fare insieme. La seconda sta per question, cioè devi fare una domanda o domande sul testo, prima della lettura, che è invece la prima R, read, che quindi è la fase centrale di questo metodo. R sta per recite, cioè intoniamo quindi la seconda R, cioè devi cercare le risposte alle domande, te lo semplifico rapidamente senza fare troppe traduzioni specifiche, e l'ultima R sta per review, quindi una revisione generale di quello che hai fatto finora. Quindi andiamo dritto alla sostanza e vediamo ciascuna fase che compone il metodo a livello pratico. Allora, partiamo anzitutto dal capire come esaminare il materiale, quindi questa survey, questo modo di avere un'idea del materiale che abbiamo davanti, come dovremmo farlo, come dobbiamo approcciarci. Allora, numero uno, partiamo dalle cose importanti, cioè quali sono quegli elementi che ci fanno capire come è organizzato il testo. Numero uno, autore e titolo. Ce l'abbiamo qui davanti. Paolo Legrenzi è un autore, anche saggista italiano, psicologo. Il nome del testo è La Mente, quindi abbiamo già ottenuto queste informazioni. La prossima cosa che dobbiamo andare a cercare è l'indice, perché questo ci fa capire qual è la struttura del libro, quanto è lungo, quali sono gli argomenti, che tipi di collegamenti ci sono, se ci sono molti capitoli con molti paragrafi, e quindi abbiamo un bel po' di materiale, oppure sono pochi capitoli, pochi paragrafi. Ci serve sapere questo tipo di cose. Quindi abbiamo qui un totale di cinque capitoli. Come vedi, abbiamo il primo capitolo che si chiama Che cosa è la mente? Il secondo, La storia naturale della mente? Il terzo, La storia culturale della mente? E poi abbiamo un quarto capitolo, Mente ed emozioni? Il quinto capitolo, Mente collettiva, creatività e anche amore. Perfetto. Queste sono le strutture generali. A questo punto abbiamo già capito, abbiamo fatto una prima disamina di quello che abbiamo qui davanti. Quindi sappiamo più o meno quali sono gli argomenti. Si parla di mente, è ovvio, e vengono, diciamo, studiati alcuni aspetti. La parte naturale, la parte culturale, il legame con le emozioni e il rapporto con la collettività, la creatività e l'amore. Fatto questo, possiamo già cominciare a passare alla seconda fase di domande. Quindi cominciamo ad elaborare delle domande. Possiamo farlo in più modi. Per esempio, il primo tipo di modo, il primo modo, scusami, il gioco di parole, potrebbe essere il seguente. Cominciare a riprendere un po' i titoli che poi ci indirizzano verso il contenuto. Che cos'è la mente? Questa potrebbe essere una prima domanda. Puoi, al titolo informativo, provare ad esempio a scrivere queste domande e via via poi dare delle risposte, anche queste, o scritte o anche solo a livello orale. Quindi, possiamo cominciare a porre una domanda per ogni capitolo. Questo traccerà esattamente qual è il percorso nel discorso che dovremmo andare a creare quando andiamo a spiegare il libro. Quindi, potremmo dire, per esempio, che cosa è la mente? Qual è la sua natura? Quali sono le sue componenti? E cosa la contraddistingue, per esempio, dal cervello o da altri aspetti? Il secondo potrebbe essere qual è la storia naturale della mente? Il terzo aspetto è la storia culturale della mente. Qual è e che differenza c'è, per esempio, rispetto alla storia naturale? Come vedi, cerco di fare domande che non sono la semplice ripetizione del titolo, ma che si legano alle altre informazioni. Qual è il rapporto tra mente ed emozioni? Quale ha il primato su quale? Quale controlla l'altro? E infine, qual è il rapporto tra la mente, la collettività, la creatività, l'amore? E quali sono altri fenomeni che possono essere interessanti e che possiamo esplorare? Queste sono delle domande generali. Proviamo, per esempio, a fare delle domande più specifiche. Scendiamo, per esempio, al primo capitolo e cominciamo a leggere un pezzettino. Vediamo quale domande possiamo estrarre da questo pezzettino e poi ti faccio vedere questo, che è il modo in cui puoi farlo per un pezzo, puoi tranquillamente estenderlo a tutto il resto del materiale. Quindi proviamo a leggere un piccolo pezzo e poi a fare delle domande. Immaginiamo di essere un extraterrestre di una civiltà più evoluta di quell'umana a cui è stato dato l'incarico di fare un rapporto esaustivo sullo stato del pianeta Terra. Dato che apparteniamo a una cultura superiore, non abbiamo nessuna difficoltà a descrivere con il linguaggio della fisica quello che c'è dentro e sopra la crosta terrestre. Ora, questo è un piccolo pezzettino di informazione e quindi possiamo porre o proporre questa domanda. E quindi, come descriveremmo la Terra, quello che c'è attorno, a un extraterrestre? E un'altra domanda potrebbe essere, ma perché dobbiamo proprio parlare di un extraterrestre quando parliamo di mente? Come vedi, non sto spendendo molto tempo a dare le risposte. Sto cercando di creare delle domande che mi permettono di capire di che cosa stiamo parlando, perché stiamo parlando proprio di questo, come ti ho fatto vedere nel caso dell'extraterrestre, ma perché parliamo di un extraterrestre se l'argomento principale è la mente? Quindi questo è il modo in cui devi porre le domande. Cerca di porre delle domande ampie, che quindi possano essere argomentate in modo ampio, ma vai anche nello specifico. Ora, ho letto questo pezzettino, ovviamente per non perdere troppo tempo, ma quello che ti ho appena fatto vedere, quindi anche delle domande specifiche, puoi estenderle a molti tipi di materiale. Perfetto. Adesso, in modo sistematico e attento, dobbiamo dedicarci alla lettura. Quindi con il giusto tempo cominciamo dal primo capitolo, che abbiamo appena iniziato, ma che possiamo approfondire, anzi, per correttezza, dovremmo partire proprio dall'introduzione, quindi partiamo da lì, che in genere è il punto in cui troviamo molti spunti per entrare nel come l'autore vuole descriverci il libro. Quindi partiamo con un'attenta lettura, siamo nella prima R, quindi nella terza fase, in generale, del metodo. Il secolo che si apre è stato chiamato il secolo della mente, forse più per contrapposizione con il passato che per effettiva presunzione di poter divinare il futuro. Si è infatti l'impressione che il Novecento abbia portato ad esaurimento due grandi aspirazioni dell'Occidente. Il domino di un uomo sulla natura è la possibilità di utilizzare forme di ingegneria sociale per costruire modi di vita più soddisfacenti. Ora ho fatto una lettura attenta. Ti ho fatto l'esempio prima di una domanda specifica, più di una domanda specifica, partendo dal primo capitolo. Ovviamente quello stesso ragionamento possiamo farlo anche qui, e quindi potremmo per esempio chiederci che c'entra il secolo della mente con quello di cui dobbiamo parlare. Perché della mente? Perché addirittura dedicare un intero periodo storico solo alla mente? Questa è una domanda che potevamo porre prima e aggiungere alle altre validissime che abbiamo già proposto. E qui c'è la risposta. Quindi come vedi, appena utilizziamo la fase di read, quindi di lettura attenta, possiamo già recite, cioè proporre le risposte a queste domande. Per esempio, andiamo a cercare la risposta alla domanda che c'entra il secolo della mente. Perché dedicare un periodo a questo argomento? Il secolo che si apre è stato chiamato il secolo della mente, qui non ce ne ho detto di nuovo, forse più per contrapposizione con il passato. Qui già c'è un'informazione importante. Qui stiamo iniziando a impostare la risposta che poi possiamo, ovviamente, anzi dobbiamo, completare, rendere più esaustiva, rendere più completa, che è per effettiva presunzione di poter divinare il futuro. Si ha infatti l'impressione che il Novecento abbia portato ad esaurimento due grandi aspirazioni dell'Occidente. E quindi, rispetto a queste due grandi aspirazioni, il ventunesimo secolo ha invece come obiettivo quello di contrapporsi a quelli che sono stati appunto il dominio della natura come primo grande aspirazione e la seconda aspirazione utilizzare delle forme di ingegneria sociale per costruire modi di vita più soddisfacenti. Quindi, come vedi, già attraverso una revisione ed esamina generale delle informazioni, quindi con la prima fase di survey, esaminare il materiale, con la seconda fase in cui ho posto le domande generali, più specifiche, ti ho fatto vedere l'esempio col primo capitolo, abbiamo fatto anche l'esempio con l'introduzione, per trovare le risposte dobbiamo prima leggere. E quindi, con la giusta attenzione, dedichiamo il tempo alla lettura di ogni parte. Fatto questo, abbiamo la possibilità di elencare le risposte. Ti ho detto all'inizio che queste risposte puoi farle, puoi proporle, anche per riutilizzarle in futuro, sia per forma verbale, ma anche per forma scritta. Quindi, se hai il tempo e ti interessa come opzione, scrivi le risposte. Magari scriverle in un modo corretto, perdi qualche istante in più a riportarle nella forma linguistica corretta, quindi senza essere troppo dispersivo, né troppo sintetiche, che non dicono nulla. E a questo punto cerchiamo di riproporre la risposta, per come la ricordiamo, e poi facciamo una, e ci dedichiamo quindi all'ultima fase, una revisione di quello che abbiamo visto. Quindi, per esempio, adesso sfoglio, ma tu puoi, se lo stai facendo nel tuo testo, chiudere il libro, e provare a rispondere alla domanda senza l'ausilio della lettura, così da legare le tre R, sostanzialmente. Quindi posso dire che, parlando del secolo della mente, si chiama secolo della mente, cioè il ventunesimo secolo, perché si contrappone a quello che aveva caratterizzato il secolo precedente, quindi il secolo in cui le aspirazioni erano due, e in particolare si riferivano al fatto che, anzitutto, si cercava di definire il dominio dell'uomo sulla natura, e successivamente si è arrivato anche ad un altro aspetto, cioè la possibilità di utilizzare forme di ingegneria sociale. Ora, questo è quello che ricordavo io, in una forma un po' di active recall, se hai visto la lezione di ieri. Adesso andiamo a completare l'applicazione del metodo con l'ultima fase di review, cioè vado a cercare di capire, ma quello che ho detto è giusto oppure no? Ho dimenticato qualcosa? Posso rispondere in modo più completo? Posso magari essere più preciso? E allora, quello che, per esempio, ho dimenticato, rivedendo il testo, che ho dimenticato il fatto che non c'è la presunzione di poter divinare il futuro, quindi secolo della mente non vuol dire la capacità di prevedere o divinare, in modo anche un po' più mistico, il futuro. E quello che potevo anche dire, ad esempio, è che nel Novecento, quindi il secolo a cui si contrappone il secolo della mente, c'è stata una forma di esaurimento di queste grandi aspirazioni. Quindi non solo il fatto che queste aspirazioni, che abbiamo detto, essere quelle e sono giuste, esistono, ma dobbiamo rimarcare il fatto che queste sono esaurite, potremmo dire, o comunque il processo di raggiungerle e di ottenerle esaurito. Quindi questo è il modo in cui puoi utilizzare anche più livelli il metodo SQ3R, poi serenamente continuare con porre nuove domande, leggere nuovamente, cercare le risposte, provare a ricordarle senza leggere, e puoi valutare se quello che hai ricordato è adeguato, è idoneo a quello che deve essere la tua preparazione e puoi farlo con qualunque tipo di materiale. Oggi ti ho proposto questo, ovviamente non ti interessa sapere la mente, il secolo della mente, potrebbe essere qualcosa di curioso, se ti piace, però non ti interessa questo. Come sempre ti invito a fare attenzione alla tecnica, alla metodologia e se nonostante tutto hai dei dubbi, delle incertezze, fammi sapere nella sezione dei commenti e sarò molto felice di poterti aiutare e magari aiutando te posso aiutare qualcuno che è nella tua stessa situazione. Nel frattempo ti ricordo che se hai delle richieste particolari per qualche argomento che o non trovi nel mio canale o che vuoi affrontare secondo una prospettiva che ti interessa nello specifico, mi puoi far sapere sempre nella sezione dei commenti oppure in privato, se ti va, hai in descrizione tutti i link che ti possono servire. Il video di oggi è finito e quindi ti ringrazio come sempre per l'attenzione che mi dedichi. Ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.